L'anticiclone presente sull'Europa centro-occidentale e sull'Europa orientale resisterà fino a lunedì, poi verrà sostituito da correnti occidentali e atlantiche che porteranno alcuni fronti. Per domani, sabato, prevediamo bel tempo sulla regione, forse soltanto qualche nube di primo mattino sulle zone occidentali, poi sereno. Un po' di vento di borino e di bora sulla costa, sostituito poi dalla brezza nel pomeriggio, temperature massime fino a 33-34 gradi sulla pianura e sulla costa. Per domenica invece bel tempo, con cielo che sarà prevalentemente sereno, un po' di venti di brezza sulla costa e temperature però in risalita, la giornata sarà più calda, anche se la atmosfera sarà secca, quindi un caldo sopportabile, temperature fino a 35 gradi in pianura, fino a 32 sulla costa dove il caldo verrà mitigato appunto dalla brezza. Per lunedì prevediamo un aumento del caldo, il cielo sarà sereno, soltanto nel pomeriggio o sera sarà possibile un po' di luminosità sulle prealpi e alpicarniche, dove potrebbe esserci forse qualche locale temporale, temperature massime fino a 36 gradi in pianura, clima direi tra un sera un pochino più affosa rispetto ai giorni precedenti. Per martedì un possibile peggioramento del tempo per l'arrivo di un fronte, quindi con cielo variabile nuvoloso, l'arrivo di alcune piogge, specialmente in montagna ed alcuni temporali forse anche in qualche zona di pianura. Le temperature massime saranno in calo. Dall'osservatorio meteorologico dell'ARPA, Livio Stefanuto. Al prossimo episodio